Inizia la stagione 2018-2019 del Taranto Football Club, raduno di primo mattino alle 7 del mattino per affrontare il viaggio fino a Camigliatello Silano nelle prime ore del giorno. Un ritiro al quale partecipano 30 calciatori fra over e under, un mix di nuovi e vecchi calciatori che avranno modo di conoscersi presso l'hotel L'Osciatore. Nel periodo da oggi fino al 5 di agosto. Mister, finalmente un ritiro fatto da te in prima persona, quindi una squadra che potrai comporre a tuo volere secondo le tue regole. Sì, diciamo di sì, anche se non è proprio il primo, è proprio il secondo. Però è molto più semplice quando parti dall'inizio che quando parti dopo. Dove eravamo rimasti? A Cava, siamo rimasti a Cava, cioè dobbiamo ricominciare, dobbiamo ripartire, dico tutti quanti con un unico obiettivo. Un grande rientro quello di Gianluca Triuzzi che ha scritto una delle pagine più belle della storia del Taranto e finalmente ritorna ad indossare con le mansioni di team manager i colori rosso-blu. Salve, buongiorno. Sì, ritorno a casa e sono molto felice e contento di far parte di questa famiglia e di iniziare questa nuova avventura. Metterai la tua esperienza a disposizione sia dei grandi che soprattutto dei più giovani? Sì, ma soprattutto dei più giovani. Li darò una mano e cercherò di farli crescere meglio. Claudio Miale, non diciamo ancora capitano perché lo deciderete sicuramente insieme in questi giorni, diciamo almeno capitano virtuale di questa squadra. Allora, primo giorno di scuola, tu sei il capoclasse di questa formazione. Le impressioni che sicuramente è tanta esperienza, però ogni volta è come se fosse la prima volta. No, vabbè, sempre un giorno particolare, la partenza per il ritiro, quindi inizia una nuova stagione. Bisogna ripartire con ancora più motivazioni, più voglia di fare. Quindi questi giorni sono importanti per l'amalgama e in modo tale da essere pronti per la prima partita ufficiale sotto tutti i punti di vista. Non si parte da zero quest'anno, si parte da uno zoccolo duro di una formazione nella quale sicuramente sono stati fatti degli inserimenti adeguati. Quindi sarà più facile per voi il lavoro quest'anno in ritiro? No, più che più facile, la società, credo giustamente, ha deciso di programmare ripartendo da una base dell'anno scorso, in cui qui nella seconda parte della stagione abbiamo cercato di dare dignità al campionato facendo un buon giorno di ritorno. Quindi la società ha deciso di puntare su una buona parte della rosa dell'anno scorso, ovviamente, riconfermando alcuni e prendendo altri giocatori. Quello che ho già detto in precedenza è dimostrare sul campo attraverso i risultati che la società non si è sbagliata sui sottoscritti come persone e come giocatori. Sicuramente ha investito tanto la società, non sono io a dirlo, ma gli ha detto i lavori, quindi noi dobbiamo dimostrare sul campo la fiducia della società. Quindi quello che possiamo fare noi sul campo è ripagare la fiducia della società solo attraverso i risultati, che è l'unica cosa che conta. Ivan Squersanti, uno dei ragazzi nuovi, uno degli under più ambiti, avendo fatto già una bella esperienza con l'Alba Nova ed è qui con noi. Ti puoi presentare? Sì, salve, sono Ivan Squersanti, un ragazzo che l'anno scorso era impessito dal Torino, è andato al Balonga, ha fatto 25 presenze e due gol, ho giocato come mezzale e terzino destro, anche se sono un esterno alto. Quest'anno sono venuto qui con l'ambizione di vincere, so che è stata fatta una squadra importante e spero che tutti insieme riusciremo a portare questo Taranto nelle categorie che merita. Dario Bova, uno dei difensori più esperti, sicuramente anche se abituato più alla Serie C, non avrà problemi a giocare in Serie D, anche se poi il campo magari può dire altro. Diciamo che il girone H della Serie D può essere considerato quasi come una lega pro, visto le squadre che ci sono. Sarà un campionato difficilissimo, ma sicuramente ci faremo trovare pronti per quello che dobbiamo cercare di fare quest'anno, cioè arrivare ai primi. Il settore difensivo, almeno nella parte centrale, è composto da elementi esperti, quindi sicuramente non avrete problemi a trovare le giuste misure fra di voi. Sì, per ora siamo quattro over, io li conosco, ho giocato contro agli altri, è un pacchetto difensivo molto ben assortito tra giovani ed esperti e sicuramente con il resto della squadra dobbiamo dare il massimo per cercare sin da subito di essere compatti, fare gruppo e cercare di partire subito forte quest'anno. Il porterone di cui si è parlato tantissimo in fase di campagna acquisti, finalmente a Taranto, Simon van Brossel. Simon van Brossel, sì. Vabbè, sono contento di essere qua dopo tante chiaccherone, ma alla fine sono arrivato bene ieri sera e mi sento contento. Sarete in tre a sudarvi la maglia del primo portiere, immagino che per te non ci siano problemi. No, questo dobbiamo vedere nel ritiro, penso che tutti, che siamo qua, vuol dire che tutti meritiamo di essere anche in campo. Quindi siamo in tre a fare un buon lavoro insieme e alla fine decide il mister. Una battuta anche con Nicola Lanzolla, un altro degli over, dei ragazzi che si faranno carico della parte difensiva del gioco del Taranto. Buongiorno a tutti, sono contento di far parte di questa società, speriamo di partire col piede giusto e non vedo l'ora di iniziare. Stefano Manzo è uno degli inserimenti della Cavese dello scorso anno che va ad inserirsi appunto nel nuovo pacchetto del Taranto. Cosa ti è rimasto dello scorso anno e cosa pensi di provare come emozioni quest'anno a Taranto? Sicuramente l'anno scorso è stato un anno bellissimo. La grande rincorsa che abbiamo fatto a Potenza tutto l'anno è stato comunque un anno positivo, anche se l'unica squadra che comunque può gioire alla fine è chi arriva prima. Di quest'anno che dire? Una grande soddisfazione essere qua, so di essere in una grande piazza, forse la migliore in tutta la Serie D. e c'è entusiasmo, c'è voglia, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene. Stefano D'Agostino, la domanda è semplicissima. Dove eravamo rimasti? Niente, eravamo rimasti da una cavalcata fantastica con un finale un po' amaro e niente, con il nostro massimo impegno, la nostra massima voglia, cercheremo di cambiare questo finale. Squadra con una base già organizzata, solida, con degli inserimenti voluti e mirati, quindi sicuramente una buona prospettiva di lavoro per quest'anno. Sicuramente la società ha fatto le cose con criterio, con programmazione, e questo l'ambiente l'ha recepito, quindi credo che in questo mese ci dobbiamo ancora di più unire tra di noi, con la nostra gente che già è molto fiduciosa, e partire subito bene e cercare di non lasciare niente per strada e fare un anno come tutti vogliamo, però senza fare pubblicità o senza fare voli pindarici, bisogna cercare di stare uniti, tranquilli e fare il massimo. I proclami li lasciamo alle altre squadre e il Taranto dimostrerà tutto sul campo. Assolutamente, questo è, secondo me, l'input che ci vuole quest'anno, perché la nostra piazza non va illusa, non gli va detto che a dicembre vincere il campionato, magari succederà, però non gli va detto, perché è un giorno difficilissimo, complicato e bisogna essere tutti insieme per poter spuntarla, quindi questo è l'importante, che la nostra gente sappia che ci saranno i momenti di difficoltà e che ci dovranno stare vicini in quelli, soprattutto. Grazie, in buon carino. Grazie.